Oggi facciamo la canzone di Madame, che si chiama Voce. Nella tonalità originale ci sono diversi barrè, quindi io consiglio di mettere il capotasto al primo tasto e suonare le viteggiature che vi dirò. Gli accordi fondamentali sono il Mi minore, il Si minore e il Sol. Poi troveremo anche un Re maggiore e un La maggiore. Per quanto riguarda il ritmo, all'inizio basta una pennata, soltanto verso il basso, in questo modo. Mi ricordo di te, Si minore e Sol. Mi ricordo i mille giri sulle giostre, su di te, ok? Quindi molto semplice. Poi, quando la canzone si velocizza, potete, sempre semplificando al massimo, fare due pennate verso il basso in questo modo. Per semplificare. Altrimenti, bisognerebbe fare questo tipo di ritmo molto veloce. Negli occhi delle serrandi si stenderanno e io sparirò l'ultimo soffio di fiato. Suono praticamente una pennata e una contropennata molto veloci, così. E' molto difficile per chi è alle prime armi. Sono in tutto 13 fra pennata e contropennata. 13 volte, ma secondo me, per chi è alle prime armi, è meglio fare poche pennate verso il basso. Poi, quando acquisirete maggiore dimistichezza, farete un ritmo un po' più veloce. Adesso andiamo a suonare la canzone. Che non è difficile per gli accordi, ma è molto difficile da cantarci sopra. Mi ricordo di te Ricordo me le giri sulle giostre su di te Ho fatto un'altra canzone Mi ricorda chi sono Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò L'ultimo soffio di fiato Sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me Voglio che vivi cent'anni da me Voglio rimanga negli anni con me Fumo per sbarazzarmi Direi ma torna da me Ritornello Dove sei finito amore? Come non ci sei più E ti dico che mi manchi Se poi ti dico cosa mi manca Adesso che non ci sono più Adesso che gridano di me Adesso che non ci sei tu Non so se Ti ricordi di me Quanto è bello abbracciarti Per sentirti un po' a casa Sarà bello abbracciarti E tu mi sei mancata In un bosco di me C'è il rumore incessante Io faccio da parte Tu sei la mia voce E' una canzone molto difficile da interpretare E da cantare sopra gli accordi Quindi soprattutto nel cambio accordi Che dovete fare attenzione All'inizio vi consiglio di fare il ritmo In maniera molto blanda Ci vediamo alla prossima All'inizio vi consiglio di fare il ritmo